Ci siamo anche questa notte, chiari amici della notte, direi uno, per chi è ancora sveglio, per chi non ha voglia o non può dormire, per chi vuol sapere di più questa notte, pensate, di Mario Merola, cantante, attore, più cantante o più attore, meno di tanto buonanotte, come ne va la vita tanto questo non c'è? Ci siamo anche questa notte, chiari amici della notte? Grazie a voi, chiari amici della notte di Rai 1, io vi aspetto, come di consueto, sempre di notte, sempre sul Rai 1 e sempre sottovoce, un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci quando un giorno, vista l'ora, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Buonanotte! Ci siamo anche questa notte, chiari amici della notte? Buonanotte! E' vivere a regalarci un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo o è amare a regalarci un sogno da sognare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo? Buonanotte! Nei momenti di grande difficoltà, il massimo della velocità è stare fermi o no? Ci siamo anche questa notte, chiari amici della notte? Non so se lo sa, noi chiudiamo sempre i nostri incontri e chiediamo all'ospite, si faccia una domanda, si dì una risposta. Buonanotte! Grazie a voi, chiari amici della notte di Rai1, io vi aspetto, come di consueto, sempre di notte, sempre sul Rai1 e sempre sottovoce. Un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci quando un giorno, vista l'ora, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Buonanotte!